Ciao a tutti ragazzi, qui è BlueLight e benvenuti oggi in questo nuovo video Oggi sono qui in questo nuovo episodio di Hunt Farm Allora ragazzi, siamo quasi arrivati alla conclusione di questa serie Infatti mi mancano due obiettivi che sono quelli di fare un orologio Anzi, tre obiettivi, quelli di fare un orologio, di fare una mela d'oro E di distruggere tutti gli spawn nel nether Mentre nel mondo normale mi mancherebbe quello di allevare un lupo Ma non c'è questo lupo, non c'è da nessuna parte Quindi credo che la salteremo Quindi, come prima cosa, andiamo a distruggere l'ultimo spawn rimanente L'ho trovato come ultimo spawn ed è dove sta la stanza del tesoro dove sono i blades Ed è proprio uno spawn di blades, quindi lo andiamo subito a distruggere Stava proprio al centro, diciamo, in mezzo ai quadri, stava, dietro ai quadri stava E quindi l'ho trovato e quindi adesso lo andiamo a distruggere E così finiamo l'achievement degli spawn nel nether che sono 14 Li ho ricontati e a quanto pare li ho distrutti tutti a 14 Quindi andiamo un po' I pigmen sono carini con me, però non sanno che devo prendere un sacco di nugget E a proposito di un sacco di nugget stavo pensando Mi sono fatto una spada in ferro, no? E con questa spada in ferro io Cercando di salire di qualche livello vorrei Cercare di trovare Looting sulla spada In modo tale che i giocatori I pigmen mi droppassero più pepite E intanto ho trovato anche la stanza segreta Che non pensavo fosse qui Bene, questo... No, questo me l'ho scordato Trovare la stanza segreta Pensavo che era quella sopra Invece è questa Mortacci vostri Mi sono cagato in sotto Ma c'era una cesta Ed era pure molto carina Bastardi Mi ero scordato Ma che poi dov'è presso il paretto? Dove stava? Qua sopra? Dove stava? I don't know Comunque Prendiamoci la resta Noi ci culiamo tutto Sì Comunque Bene Mi ero scordato sta cosa Me l'ero... Sta buono tu Sta buono Me l'ero scordata La stanza segreta Perfetto Quindi abbiamo trovato anche la stanza segreta Che cos'era? Oddio Una zucca Sare messa in testa lui Ma che cacchio Ma what the fuck Prendiamoci i libri così Mettiamo più librerie E quindi possiamo trovare... Ma come faccio a prendere fuoco? Dai ma stiamo scherzando Ma che è questo episodio? Quello si mette la zucca in testa Qua prende fuoco tutto Ma che è? C'è fatto male Come c'è fatto male? Prendiamoci i libri Che ci servono Per aumentare i livelli Nell'enchanting table Quindi buono Oh sono già al 7 Sarà difficilissimo Fare uscire looting Sulla spada Però noi ci proveremo Quindi Il bello è che Per salire di livello Devo Menare I Pigmen Quindi Mettiamoci tipo In Zona Nella zona Verso Lo spawn Anzi verso il portale del nether Scusate Così poi lì possiamo menare Piano piano Perché comunque Menarli qua in mezzo alla mappa Non è proprio Una cosa molto molto carina Ok quindi Ehm Mettiamo anche la giment Di trovare la stanza nel nether Oh fuck Ho rischiato La Una Una cifra Però sono vivo Ciao gigantesca Molla Ciao molla Vieni qua Vieni Basta che non mi spingi Nella lava Io lo so già che lo vuoi fare No guardate quanti siete Sento un gasto ma Dov'è Come fa a stare lì In che modo Portarci sui No 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 Non stiamo capendo Non stiamo capendo per il niente Non stiamo capendo per niente Io lo so che casco nella lava Io casco nella lava Mi metto qua Oh mio dio Ma perché Ste cose adesso Io Stavo concludendo Tutto tranquillamente I miei achievement Non ci dovete essere voi pure Tutti morti No Ok Come fa a stare un gasto là Perché Porco cane Ma il bello è che Sta vicino al portale Mortacci sua Come fa a stare lì Non me lo spiego Ho paura di rinviargli La palla Perché Poi rimango qua nel nether Già non ci sono rimasto Uno Che culo Da dove viene Da dove Da dove Come 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 Spiegatemelo Non lo so Non lo so E non lo voglio sapere Anzi Non lo voglio sapere Via da qua No di qua Ok Oddio Santo Allora Noi abbiamo Se non ricordo male Due lingotti E non è una cosa buona Perché me ne servono Quattro per il clock E ben Otto per la mela Quindi siamo un po' Indietro Allora Prima cosa Avere la spada Seconda cosa Farsi un po' di livelli Quindi Cerchiamo di non morire E Terza cosa Il cibo Terza cosa Il cibo Vediamo un po' Il grano Allora Intanto uccidiamo Questi pigmen Qui Quanti No E ne è uno solo Lo lasciamo perdere Ma Prendiamoci il nostro grano E poi Mi sa che è meglio Tornare nel nether Tipo farmi Una piattaforma Un po' alta E poi Ucciderli tutti Piano piano Con la nostra spada Evitando naturalmente Quelli che saltano Perché la gente salta Gente salta Vai Preso il grano Andiamo a farci Un po' di pane Perché ormai È l'unica Fonte di cibo Che ho Anzi ci sono anche Le mucche Quindi vabbè Ci accontentiamo Del pane Grazie Allora Vediamo un po' Andiamo E vediamo un po' Il Da farsi Mangiamo pure il pane Che è buono Allora Ci mettiamo Allora A distanza da quello Ci mettiamo qua Se no in un angoletto O tipo qua Dove c'è già questo pigmen Tipo così E facciamo così Adesso Ecco Questo non va bene Questo non va affatto bene Come ha fatto Ad arrivare fino a me Che palle oh Adesso però Non li prendo io Ah perché loro saltano È vero Loro saltano Per prendermi Loro saltano E io vabbè L'ammazzo Ok Tu sei morto Tu sei morto Allora Una cosa carina da fare È questa Togliere questi blocchi qua Che fanno tipo Parkour No Prendiamoci questi Devo essere tipo Velocissimo A provocare gli altri E andarmene Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Che ci lascio le penne No No sali Uh Non mi hai mai preso Non mi hai mai preso Facciamo così Ok Altri tre Ci abbiamo due Nugget Ok ragazzi Mi sa che Lavoro un po' Off camera E ci vediamo tra poco Ok ragazzi In questo tempo Off camera Sono riuscito ad ottenere 18 golden nugget E addirittura Un lingotto Quindi Diciamo abbiamo fatto Un passo avanti Ora Facciamoci Un po' di librerie Perché sono arrivato A livello 24 Quindi Andiamo A mettere I libri E poi Il legno A far così E così Vai 18 librerie E Perché mi hai dato La achievement Librarian Già ce l'ho Già l'ho fatta Va bene E andiamo a spostare Questa E E Andiamo a spostare Eh si Ti devo rompere Mi dispiace Allora Vediamo un po' Se riusciamo a farla Entrare quasi Però In questa maniera Tipo Ok Vai così Tutte Librerie Perfetto Proprio così Dentro casa Tu sei in più Non mi piace Guarda Ne faccio altre Ma Facciamo così Ok Altre due Che andremo a mettere Qua Comentiamo un'altra torcia Allora Intanto Prendiamoci tutto Quello che abbiamo Dell'oro E poi Prendiamo La nostra spada E tentiamo E tentiamo La sorte 12 livelli No 12 livelli No 12 No 12 14 Aspettate Forse Quelle là dietro Non le conta Forse Quelle là dietro Non le conta E noi facciamo E noi facciamo un attimo Così Entrato tutto Nell'inventario GG Togliamo le torce Pure Vediamo un attimo Ah Ora le conta Perfetto Vabbè Tanto Dovo incantare Solo questa spada 30 18 No 18 19 No Almeno 20 Dai Quando arriva al 20 La incantiamo 10 13 17 9 12 Vabbè Facciamo 19 20 Va 8 10 15 Oh mio dio Se facevo Subito Quel 19 Sa che Era meglio 11 16 11 9 17 13 17 11 19 Mannaggia A me Ho tolto Perché ho tolto Non lo so 21 Smite 3 Knockback 2 Non proprio Non proprio Quello che mi serviva Però va bene Va bene Cioè comunque È contro I pigmen Quindi Gli fa più male Perché c'è smite Quindi Da una parte Possiamo essere Felici Quindi Andiamo a poggiare La roba che non ci serve E andiamo Andiamo a fare I blocchi I lingotti Yay Due lingotti Siamo a 5 Possiamo fare Un clock Almeno Un clock La resta Non già ce l'avevo Il clock Si faceva così GG Per me Ok Nuovo Achievement Completato Quindi Mi manca Mi manca Mi manca La mela d'oro La mela d'oro E ho un lingotto Me ne servono Altri 7 Perfetto Quindi ragazzi Per questo Episodio Di Hunt Farm Survival È tutto Spero vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare un mi piace Di commentare Di condividere questo video E se non l'avete ancora fatto Di iscrivervi al canale La pagina facebook È in descrizione E anche il sito web Quindi Ciao a tutti da Bluelight